Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video, questo è un video molto speciale perché è il primo video che faccio dopo un lungo periodo di pausa, purtroppo non sono stata bene per un mese, più di un mese che sono stata male e non ho potuto più fare il video, mi scuso con voi, però purtroppo non ci possiamo fare niente. Per farmi perdonare oggi farò un video molto speciale perché questo video diciamo ha uno scopo ben preciso, oggi avrei dovuto prendere parte alla manifestazione di pittura che si tiene ogni anno per parlare appunto dei lavori che ognuno ha fatto. Io però purtroppo per un problema che è successo in questa casa non ci sono potuta andare. Se volete sapere cosa è successo sia per quanto riguarda il mio problema di salute, se volete tutto nei dettagli e sia quello che è successo in questa casa scrivetemi in privato, io vi risponderò a tutti i vostri dubbi e tutte le vostre domande però in pubblico non mi va di dire nulla perché chiunque può leggerlo e comunque non è bello ecco quindi se proprio volete saperlo in privato vi dirò tutto ma non in pubblico. Purtroppo ci tenevo e ci sto male soprattutto perché ieri con l'aiuto anche del mio fidanzato, anche se a distanza, lui mi ha aiutato a scegliere i lavori che avrei dovuto portare. E poi è successo questo contrattempo e non ci sia posto andare più. Però tuttavia io non voglio che i lavori che ho fatto quest'anno vengano in un certo senso archiviati e finiscano nel dimenticatoio. Quindi ho deciso di fare la mia manifestazione con voi. Cioè quello che avrei dovuto fare mettiamo stamattina lì a parlare dei miei lavori lì, ho deciso di farlo tranquillamente da casa, tutto per voi. Quindi è un video molto speciale. Inizierò a parlare dei miei quadri e spero che apprezzerete questo video. Allora, iniziamo. Allora, questo lavoro purtroppo è molto grande quindi è difficile che si riprenda tutto praticamente. L'ho chiamato Il mio primo e unico amore. Perché? Perché praticamente questo dipinto racconta il primo appuntamento che ho avuto con mio fidanzato che voi avete pure visto perché in qualche video ci sta pure lui. Allora, no, ve lo spiego. Queste ovviamente sono le nostre mani. Questo è un arcobaleno che per me è la speranza che ci rivediamo perché comunque ho un rapporto a distanza. Questo comunque è un albero perché comunque noi il primo appuntamento l'abbiamo avuto alla villa. E questa è la panchina, la fontana che noi abbiamo visto e tutto. Questo qua che voi vedete ho preso spunto da una frase che lui mi disse proprio quel giorno. Cioè perché siccome era un giorno di autunno quando abbiamo avuto il primo vero appuntamento insieme, le foglie si sa come sono in autunno. Sono praticamente praticamente sono rosse, gialle, i colori classici dell'autunno e in più cadono. E lui mi ha detto mai pensato che le foglie quando cadono sembra che danzano nell'aria? Questa cosa mi è rimasta impressa e ho voluto ridipingerla qui. Queste macchioline non è stato un errore ma ce le ho fatte di proposito perché ho pensato alla nostra distanza e al fatto che comunque mi sento triste quando lui non c'è. E quindi in un certo senso il cielo anche è triste e questo ho voluto esprimere con questo lavoro. Secondo la mia insegnante io praticamente ha notato delle cose che non vanno. Prima di tutto qualcosa che non va nelle mani. Poi dice a me sembra più un divorzio perché qua l'hai fatto in un modo e qua in un altro. Lei può anche aver ragione però giustamente giustamente non per contraddire una persona. ma io in realtà l'ho fatto quando lui non c'era quindi ho pensato forse di più alla distanza quindi ci sta che queste due cose si possano separare. Però alla fine siamo sempre uniti perché stiamo comunque sempre insieme. Questo lavoro secondo me non deve essere mai archiviato perché prima o poi ci voglio partecipare a qualche mostra. Assolutamente perché è un lavoro per me importantissimo. Poi passiamo avanti. Questo qua. Questo qua praticamente non ho voluto raccontare nulla di questo. Perché? Perché dovevamo fare praticamente un lavoro, un esercizio, imitando la pennellata di un pittore famoso. Questi qua hanno tutti nomi strani. E praticamente io ho dovuto dipingere questo ma così mi ha detto l'insegnante praticamente pure l'albero in realtà non è una mia scelta. Ci è rimposto fare determinate cose. Però questo ce l'ho voluto mettere perché mi piace com'è venuto alla fine. Poi abbiamo questo. Questo praticamente l'ho chiamato quattro giorni insieme. Quattro giorni insieme sempre con il mio fidanzato. Ma voi sicuramente vi starete chiedendo ma perché non hai dipinto che ne so un paesaggio qualcosa che ricorda ma così sono soltanto macchioline e strisce. Perché alla fine quattro giorni insieme ho pensato che passano subito e tu non fai in tempo a visualizzare una vera immagine. E quindi ho voluto farlo così. L'insegnante dice che questi colori sono tristi. E le posso dar ragione. Però è anche vero che fin quando io faccio questi lavori, quando il mio ragazzo non c'è, è naturale che i colori risulteranno essere tristi o sembra come nel caso dell'altro quadro che è un divorzio. È naturale. Perché penso alla distanza, cioè penso prima i giorni insieme, poi penso alla distanza e mi viene naturale farlo così. Poi ci sta questa, è una pittoscultura, ecco così. E queste praticamente sono conchiglie vere che io ho raccolte al mare, ce le ho incollate. Mi sono ispirata appunto all'oceano, al mare. E l'ho fatta diciamo durante l'estate dell'anno scorso. Poi ci abbiamo questo. Questo l'ho chiamato pomeriggio alla villa. Perché praticamente mi sono ispirata sempre alla mia storia d'amore con il mio fidanzato. E ho deciso di ridipingere la villa. Però non basandomi sul primo appuntamento ma più in generale. Perché lì la villa noi tutte le volte che ci vediamo ci dobbiamo soltanto andare. Quindi pomeriggio alla villa l'ho chiamato. Poi ci abbiamo questo. Che praticamente, come potete vedere, sono una serie di immagini. Ti immagini. Che non si capisce un granché. Aspetta, è così ecco. Che non si capisce un granché. Perché non si capisce? Proprio perché sono diversi colori. E noi, usando questo tipo di pennellata, abbiamo dovuto fare questo quadro. Questo quadro lo potrei benissimo chiamare qualcosa tipo viaggio senza meta. Perché? Perché praticamente voi dovete sapere che io nella mia vita sono stata di qua e di là. Cioè non so più dove sono stata perché i posti che ho visto sono troppi. Ma il problema è che io non mi ricordo più dove sono stata. Perché sono andata ma senza vedere, senza osservare. Quindi è come non esserci mai stata. E quindi alla fine, alla fine qua ho dipinto un po' tipo... Come potete vedere qua ci sta una specie di casa. Le cose che comunque ricordo. Qui c'è un castello. E come potete vedere al centro ci sta una stella con un occhio chiuso. L'occhio chiuso simboleggia proprio il fatto di non guardare, di non vedere. E quindi alla fine mi è venuto fuori questo lavoro. Poi abbiamo questo. Questa è sempre una pittoscultura. E sinceramente non so che cosa potrebbe rappresentare. Diciamo più un esercizio. Però mi piaceva. Quindi mi è dispiaciuto, ecco, scartarla. Questo lavoro è fatto con la pasta. E praticamente... Diciamo che l'idea mi è venuta indirettamente dal mio fidanzato. Perché parlando, parlando, tu puoi usare tutto il materiale che vuoi. E poi anche la pasta alla fine mi è venuto così, naturale. La pasta incollata. E tutto dipinto. Anche se l'insegnante mi ha detto che... Che ci ho messo troppo colore. Però alla fine... Ovviamente così mi è venuto rifarlo. E così l'ho fatto. Poi l'ho dovuto rifare. Perché ovviamente per farlo come diceva lei. Però alla fine... Questo qua è migliore. Perché spesse volte per rifare un lavoro... Non è detto che... Il lavoro riesca meglio. Anzi... Spesse volte ti esce addirittura peggio. Perché più una cosa la fai. Più ti diventa monotono. E più alla fine non ci metti più l'anima, il cuore, la passione. E più risulta una cosa spenta. Questa è una pittoscultura, come potete vedere. Mi sono ispirata all'Inghilterra. Mi sono ispirata sia al viaggio che ho fatto anni fa, che al viaggio che dovrò fare con il mio fidanzato. Questo praticamente non è stata la mia idea. Ma è stata l'idea, diciamo... Più che altro dell'insegnante. Perché lei mi disse... Cerca di rifare pensando a colori felici, cioè di quanto sei insieme col tuo fidanzato. E mi è uscita una cosa così. Questo è per onorare la mia passione per la ginnastica ritmica. Come potete vedere una ginnasta ho fatto. Utilizzando semplicemente due colori. Poi ci sta questo. Questo è ispirato al viaggio che dovrò fare alle tremiti con il mio fidanzato. Purtroppo quest'anno non ci possiamo andare più per i troppi problemi che abbiamo avuto. Però non è detto che l'anno prossimo non ci andremo. Questo ho voluto rappresentare la confusione. Non so perché ho avuto questa idea qua, però mi è venuto così e ho voluto fare. Questo è per fare le prove con l'acquerello. Perché noi facciamo un po' di tutto. Ho fatto questo vaso. Questa è una pittoscultura sempre ispirata al viaggio che dovrò fare alle tremiti. e ci ho messo delle conchiglie vere e anche dei sassolini come potete vedere qua. Questo è... ho usato i colori ad olio per fare questo lavoro. Come potete vedere è un paesaggio autonome. Quindi è tutto rosso. Non ho ancora deciso come lo chiamerò, però prima o poi mi verrà in me. Questo ho anche fatto con i colori ad olio e ho fatto il mare perché mi piace tanto il mare. E ci ho fatto anche una collina perché adoro, adoro diciamo quando dal mare tu vedi in lontananza un paesaggio tipo una collina, un'isola e quant'altro. Poi abbiamo questa pittoscultura fatta con la carta arricolata. Questa qua praticamente ho voluto rappresentare la tristezza perché ho attraversato un brutto periodo della mia vita e l'ho voluto rappresentare dipingendo. Per finire c'è un'altra pittoscultura, però stavolta rosa, e ho voluto rappresentare qualcosa più tipo l'amore, la passione, la natura, ecco, più che altro. Questi erano i lavori che io ho scelto per fare la manifestazione che purtroppo, che devo dire, sarebbe il prossimo anno però con altri lavori perché questi non li posso più portare perché lì si va di anno in anno, quindi non posso più portarli, però almeno sono felice di aver fatto questo video con voi. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi nei commenti altre idee per nuovi video. Vi saluto e a presto.